Benvenuti in un nuovo video! Oggi finalmente si registra! Mamma mia! Tu con i capelli corti? Via! Proprio così! Siamo qui con l'appuntamento mensile di Degusta Box! Scusatevi per l'assenza dell'ultimo periodo, ma i giorni stanno volando, sono successe tante di quelle cose, belle e brutte, quindi siamo ritornate! Siamo qui con la box del mese di gennaio, quindi direi di scartarla subito! Pesa! 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 Ed è bella grande! Vediamo, stiriamo bene! Fondamente è sempre più piccolo, infatti sta là! È tipo un pre-ordine, quelle con il top box sicuramente! Fesco! Vai! Ti hai visto tutto! Olè! Aaaaaah! Bauli Pancake Proteico! Io non l'ho mai visto questo! Io lo stavo cercando al caramello salato! Cioè iniziamo col botto! Iniziamo col botto! Questo mese! Adoro! Ma che bel colore! Ma poi carta! Bellissimo! Adoro! Li proveremo insieme! Ma già sono pronti! Cioè li desideriamo solo riscaldare! Sì sì, infatti ha scritto scalda qualche secondo i pancake in padella oppure in microonde! Adoro! Una cosa ancora, perché uno non bastava! Infatti sta qua! C'è pure nel calendario dell'avvento! Ah ma sono seri! Ah questo ci fa il calendario! Eh! No non ne ho proprio bene! Io non pesco più! Crema e gusto! La mazza risveglio classico! Caffè nero e caffè latte! No ideale per... Ah ideale per caffè nero e caffè latte! Intensità 7 su 10! Sembra un po' quello che utilizza la nonna! Eh non so se è lo stesso! La mazza! Però ci piace! Ci piace! Ogni tanto la ma pure la mazza! Noi la utilizziamo perché noi abbiamo la macchinetta con le cialde! Però ogni tanto la mazza la facciamo! Poi io stiamo bene! Mi sento un'altra busta! No no no! Schiacciate! No basta voi! No! Vediamo con pari due forse! No uscirono nella deglustina! Allora è uscito una volta... No uscirono bianche! E noi le compramo a cannavo! E noi le compramo a cannavo! Però... Cioè questo ci facciamo una cheesecake! Sì infatti! Cioè! Cioè questa è una cheesecake! Alcuni sono infatti ma... Alcuni! Vabbè però... Questi noi già li abbiamo provati! Sì li abbiamo già provati! Però ci piacevano più... Ci piacevano più quelli normali! Quelli bianchi! Va bene però sempre buoni! E poi cercati però... Mmm... Molto colazione! Molto colazione! Sono delle fette biscottate! Fave di cacao e cocco! Non ispira! Mon viso! E cattivo giù! Wow! Faremo un bel po' di vloggini con... No ma questo sono veramente una piccola! Sì sì! Ma è che ci sta! Ma è proprio colazione! Ho visto un bel po' di cose! Ho deliciato! Questo è il miele? Ma ti immagini il miele ma non lo spero! No! Mmm... Calipo! 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 Non lo so! Calipo! Marmellata! Confettura di arance bio! Domani mattina faccio un bel vlog! Faccio un bel vlog dove provo questa con le fette biscottate! Secondo me ci sono da più solo frullata! No! Queste hanno visto la piaccia! Tipo a me piace adesso quella dei frutti di bosco! Invece papà tipo va a impazzire per questa qui all'arancia! All'arancia! Se vi ricorda quando uscirono le rosse? Le rosse! Le rosse! Le rosse! Cioccolato extra fondente con ciliegia al litore! Un po' il Moshin! Moshin! Questi quadricotti escevano tutti aperti Sempre... Però non era il calendario... No, era una degustante. Ragazzi, vai! Abbiamo visto il pezzo di nuovo... Se vediamo questo... Amo essere il mio! C'è sempre un prodotto Amo essere! Ma lo sai che io volevo andare all'euro spin a prendere i fiocchi Perché questi qua che abbiamo Sono quelli laturi che non mi piacciono E quindi ci volevo fare il porridge E infatti io lo voglio provare questo porridge È legata l'occasione per provarlo Amo essere bio fiocchi da vila naturale Interessante Questi sono proprio quelli più grandi Sì, sono proprio quelli grandi Si possono fare tantissime cose Anche il biscotto Quindi non vedo l'ora Allora, questo è già uscito Ma noi l'abbiamo No, vedi che questa è uscita Nel calendario dell'avvento Ma noi non l'abbiamo ancora provata Questa, l'abbiamo nata Ma no, però non è che Non hanno venduti i calendari E mo ce li vogliono metterà No, poi li hanno venduti ma I pezzi sono di più, li hanno messi nelle box Però metti caso Cioè, uno ha preso il calendario Hai doppioni Cioè, infatti, non sono d'accordo Su questa cosa Secondo me i prodotti del calendario Dovano restare tali Comunque la moglionisse Questa qui Che non l'abbiamo ancora provata Speriamo sia buona Speriamo Ma la moglie se la utilizziamo Però Ma stasera l'apriamo L'altra però Ok Chi io Chi io Allora qui non c'è Dai, prendila Quella che è stata al canno Questa però C'era arrivata un po' Che non è uscita più Solo due o tre volte L'abbiamo utilizzata Comunque sì C'era nulla di Cioè, a me sembra di montata Non è uscita più Non è uscita più Non è uscita più Devo dire No, ci hanno buttato il fumo nell'occhio Con i pauli Però Tra virgolette Non può aiutare neanche Proprio la colpa Potevano giocare con altri prodotti Che non avevano mai inserito Però ti posso dire Che le aziende Si sono fermate Cioè nel senso Mo mettiamo Kinder Dopo tanti mesi Ha fatto uscire la novità Della frase Sul Kinder sorpresa Per fare Quel fatto di marketing Così che la gente Va come una Tutta una storia di marketing Perché alla fine Sì Ma la fine Il prodotto è quello Cambia solo l'imballaggio E sì Però ultimamente Le aziende Pure snack americani Io volevo fare un bel ordine Proprio di prendere Le novità Giapponesi Orientali Americane Però prenderai il rame Non ho trovato niente Però prenderai il rame Non ho trovato niente Cioè sono andata sui siti E li ho girati tutti A tappeto Quindi magari evidentemente Anzi loro È anche legato a questo Comunque questo È sempre ben accetta E si utilizza Ma è che non si utilizza Questi sì Sono carini Madonna mi ispirano Mister Ruffin Carini Però mi fa strano Vederli avvertiti E non confezionati No vabbè Guardate quanto sono belli I brownie erano molto buoni Questo potremmo inserirlo In un video da provare Vita Salvi Sì Va bene Dai l'ultimo prodotto Te lo passo io Che adesso? E nel video Provo la l'acqua di coco L'acqua di coco L'ho sempre voluta provare Ma non l'ho mai provata Vita Coco Press It Ah questo è carino Questo lo proviamo in un video Lo mettiamo in frigo Sì Una normale acqua di coco Molto carina Spero sia buona Molto piccolina E niente Allora come quantità di prodotti Ci siamo Anzi Ci sono Non ci possiamo lamentare Molto sulla colazione Alla fine Ok leggiamo Vai Nella buona dicembre Si è dimenticato di questa cosa Allora Non ci crederete mai Ma il prodotto del mese Sono questi Boero alla ciliegia 1,79 euro Confettura di arance bio 4,99 euro Muffin 2,25 euro I mini muffin 2,25 euro Fiocchi d'avenamo 1,39 euro Pancake proteico 3,89 euro Caramelle Harry Potter 3,90 euro Poi Fette biscottate Monviso Che gusto c'era Ribesse e mirtillo Ribesse e mirtillo E poi Fale di cacao e cocco Che abbiamo preso noi 1,89 La panna Chef 2,79 Maionese 5,21 euro Acqua di cocco 2,90 euro Oro saiba I biscotti 2,29 Lavazza Il nostro era Il classico Il classico Sì Creme e gusto Ricco 3,49 euro E basta Sono finito Ok Ah ci sono pure le capsule Cioè poteva andare le capsule No e neanche perché noi abbiamo le cialde e non le capsule Quindi no Meno male che ci hanno dato un buon prodotto Infatti sì Quindi aspettatevi un po' di vlog Un po' di video recensione In generale Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Noi sbagliato No Noi speriamo che questo Ah Noi speriamo che questo Ah aspetta Vai rifacciamo 3,2,1 E niente Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao 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 Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao